amici di mondo convenienza siamo ancora a bari in piazza del ferrarese e siamo pronti per ascoltare l'intervista a stefano cece sono stefano cece vengo da foggia e sono un cantautore sono molto felice di essere qui con voi oggi beh un mio pezzo nasce davanti diciamo al pc ultimamente una volta era con la bella chitarrina adesso insomma con il computer e si parte da un semplice giro di musica di accordi e poi da lì ci si lascia un po ispirare anche da dalle cose che si sentono in giro magari dagli amici dalle persone per strada anche parole catturate casualmente camminando per la città insomma oggi purtroppo la musica è diventata diciamo un mcdonald una roba che si consuma velocemente che si consuma magari mentre si fa altro non c'è più quell'attenzione di una volta però questo per me un'ulteriore sfida perché noi dobbiamo semplicemente creare qualcosa di così forte da colpire l'ascoltatore bloccarlo lì dov'è quindi non permette di fare altro perché viene così preso nella canzone che automaticamente deve ascoltarci secondo me lo stile giusto è un mix tra se stessi e il restare al passo a passo coi tempi perché altrimenti si è fuori dal mondo completamente quindi non si riesce a comunicare con le persone la mia forza è la voce sicuramente dopo tanti anni di lavoro su me stesso penso che ascoltandomi si possa veramente capire cosa cosa provo almeno posso trasmettere davvero il senso diciamo di quello che voglio fare comunicare a dire per della buona musica tanto buona quanto le orecchiette vota cece sembra il modo migliore di augurarmi diciamo di essere con voi il giorno dell'apertura